Questa ha un aspetto bizzarro. Come si chiama? Bomba a cavo d'innesco. Uno dei metodi più scaltri che abbiamo per privare dei piedi gli avversari. Vedi questi filamenti sul lato? Questo ordigno non detona finché uno di questi molti cavetti non viene disturbato. Estremamente utile nei vicoli. O nella carrozza di qualcuno, magari sotto il sedile. Oh, Ezio Auditore. Sei davvero un subdolo animale. Dovrei starti lontano per evitare che tu ferisca la mia delicata sensibilità. Oh, credo che sopravvivrai. Ma certo. Non farti saltare le mani. 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 R Scapponino 저 doppio da tutta le mani. Esatto! A thing che l' Drinko è bene. Fic espacio? Facialità Centrere le mani. Presto! Presto! Ah, muori! Grazie per la visione!